Allora, sono qua in Classroom, cioè in Calendar, e voglio partecipare ad un Meet, perché ci sono, volevo vederle, ci sono due grosse novità su Meet. Dunque entriamo, ok, dunque clicco qua, entro, partecipa con Google Meet, ok, e la prima novità è questa, che si può sfocare, dunque attiva sfocatura di sfondo, ok, io non ho la telecamera, dunque per me non va bene, cioè nel senso non mi serve, ma per chi ha una telecamera, cliccando qui, attiva la sfocatura, ok, e cliccando di nuovo disattiva, ok, dunque attiva e disattiva. L'altra novità la vediamo dentro, partecipo, dunque vado dentro, partecipo, e adesso hanno introdotto, dunque saranno contenti noi docenti, siamo contenti noi docenti che così vediamo tutti gli alunni, e dunque non abbiamo più bisogno di Greet Meet View, e in pratica si può andare a vedere tutti gli alunni partecipanti, massimo numero che si può vedere sono 49, però d'altronde le classi comunque non sono superiori sicuramente a 49, anche se alcune a me è capitato 32, però dunque siamo dentro nei numeri, e dunque andiamo qui, ok, dunque posso anche qua disattiva sfocatura sfondo o attiva, anche qua si può fare attiva sfocatura sfondo, ma si può anche andare qua in modifica layout, e si può andare a scegliere mettendo qua griglia, in griglia, ok, si può andare a scegliere quanti alunni si vuole vedere, e dunque fino a un massimo di 49, però vediamo se si riesce, però va, dunque da 30 non si può settare, no, no, vediamo non si può in nessun modo, cioè da 30 passa a 16, poi passa a 42, e poi 49, non c'è, ma è strano, era più comodo farlo passare, dunque può andare da 6, 9, 16, 30, dunque uno terrà sul 30, 30, 42 e 49, dunque si deve tenere sul 30, posiziono qua, va bene, spero di essere una novità, una grossa novità molto utile, spero di essere stato utile, ci vediamo la prossima, arrivederci.